Con molto piacere che sono qui, è una cosa che mi emoziona moltissimo. Vedere che la Regione in questo momento decida di spingere e portare avanti la figura di mio padre è una cosa che non solo mi emoziona, ma in qualche modo corona gli sforzi che sto cercando di fare da quando ho iniziato a occuparmi dell'opera di mio padre, quindi di mio padre come artista. Spero che questo significhi in qualche modo vedere tutta la Regione Puglia unita perché sono a Bari oggi, quindi Bari, Lecce, senza questioni, senza conflitti, senza in qualche modo per un grande artista che secondo me ha fatto moltissimo per questa terra e ancora oggi è attuale ed è stato il portavoce di quello che in qualche modo è la realtà di tutta la Regione e non solo Salentina, anche se poi sicuramente con un'attenzione particolare al Salento ha descritto in modo sublime. Credo che forse l'insegnamento più importante sia quanto è importante la libertà di pensiero, quanto è importante potersi esprimere e poter credere nelle cose, poter credere nei cambiamenti. in qualche modo quello che mi ha trasmesso è un grande amore per questa terra.